Sindaco, sindaco, signor Presidente, io dico finalmente, finalmente state lasciando un avuto dove il libazio si è nato, in un'unità delle conoscenze, dove c'era un periodo di preparazione e conoscenza che non è stato, in un'unità delle conoscenze, che da dire che tutti i primi hanno dato un'invento a tutti i primi, tranne avrò dato il fondo da te, tranne avrò dato il fondo da te. Mi ricordo, c'è proprio il modo scritto, che da, non stanno bene questo mondo, e te puoi giustare te, te sei, 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 te sei. A propria messuna, in questo modo ci piacevole, mi romane, la cosa è la tua fantasia, dalle misi scelta, ci sono i cittadini, ci sono i cittadini, per esempio, mi basta esclusere purtroppo la unpa della me posta avverso, la bravata, io sono poco tenuta, ma io non ti sto percorando, a scopo, non puoi riferire, ho i tempi di ciò, non puoi riferire, ho i tempi di ciò, non puoi riferire, ho i tempi di ciò, ho il risultato, però se riferiremo nel riferimento delle strutture di care, Poi si impegna, si impegna molto. 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 Poi 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 si impegna attiva dalla procurazione. Poi si impegna di Napolitano, Ci siamo gente che si è presso il Consiglio del Consiglio, il Consiglio del Consiglio del Paolo, il Sittanale, non tutela una serie di cose che sono fondamentali per i civili, per le associazioni, noi vogliamo pensare che siamo stati a guardare le fasce organizzionali, non vogliamo entrare nel tempo, perché sono le scelte che fanno, perché abbiamo ripetze… Allora noi abband� Century «Un'ersonale!» Quindi i nostri scelte «Un'ersonale è facilita»… Stiamo sự ritmiando con una parte di button policy… Qual è la cosa? «Un'ersonale è Euromona!» Io, alla rifiuta di assistenza, credo che ci siano una delle situazioni di tanto che ne avrò di aprire la proposta, per progettare che credino che sia un dettaglio dal punto da preparare dei tanti e viene proposto da Stato Corrente. Io, questo disse, su qualità ci siamo in fretta, dovremmo spostare la posizione, qual è la posizione? Oggi, ci siamo in fretta. Grazie. Alcesto del Presidente, il Presidente, il Presidente d'Orsino, le ha la travolta a tutti i partiti. Buon mattina a tutti.